Su col morale ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che tratta il mio canale Questo è un gioco un po' bizzarro come potete vedere là Questo personaggio alcuni di voi l'avranno indovinato, si E' Cat Mario Un gioco molto troll, cosa significa? Pieno di scherzi Che cavolo è? Ecco, questo qui è livello E' molto difficile sto gioco infatti E poi appena mi prendono i cattivi dicono le frasi Frasi stupide Oh ce l'ho fatta, avanziamo Ma che cacca significa? Facciamo venire anche quello Praticamente è come Super Mario Eh, non faccio questo un troll Tipo come Super Mario 3D World, Bros Che è Cat Mario Però è un po' più brutto E anche molto troll Posso assicurare che questo gioco mi fa abbastanza sclerare Oh no, dove vai? Ma dai E' pieno di trollate sto gioco Devo fare una mossa particolare Ecco Mi han preso perchè è uscito uno da lì E' pieno di scrivere si ce l'ho fatto cioè avete visto? io ero arrivato molto più avanti ma adesso mi viene un po' più difficile visto che ho anche in mano il telefono per filmare salta cioè porca miseria se perdo adesso non so cosa dire basta